Opere pubbliche comunali, la legge di stabilità varata dalla governo Renzi stabilisce norme precise. Il comune di Terranova Bracciolini, avendo approvato il proprio piano prima dell'approvazione della suddetta legge di stabilità, la vecchia finanziaria, deve rimettere mano al documento. Il provvedimento è stato annunciato nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Sentiamo il vice sindaco di Terranova, Mauro Di Ponte. Porteremo in approvazione al consiglio comunale una variazione al piano delle opere pubbliche. Ricordo che il nostro piano delle opere pubbliche è stato approvato il 16 dicembre 2015, quindi in un periodo antecedente a quella che era la legge di stabilità, che è stata emanata dal governo successivamente. Quindi andremo a recepire nel nostro piano quelle che sono le indicazioni della legge. Sapevamo già che avremmo dovuto fare quest'atto, sostanzialmente andiamo ad inserire quattro tipi di nuove opere e andiamo ovviamente a togliere un pari importo più o meno per quegli nuovi inserimenti di altre opere, in maniera da tenere in ordine i conti di bilancio e quindi mantenere l'equilibrio. Ma le novità non finiscono qui. Il comune infatti riuscirà presto, sempre in fatto di opere pubbliche, ad eliminare mutui residui, contratti per la costruzione delle stesse, sempre il vice sindaco di Ponte. In più abbiamo ridotto per finanziare queste opere di gran lunga il ricorso a mutui che erano stati messi diciamo come tipologia contabile per andare a coprire queste opere e tutto questo perché appunto ci permette di rimanere in equilibrio con il patto di stabilità. Quindi la nostra capacità di spesa anche per quest'anno prevede un piano delle opere pubbliche da 3 milioni di euro. La riduzione dei mutui ammonta a circa 890 mila euro. Ricordo che questo e il successivo anno, quindi il 2017, i mutui contratti dal nostro comune sono pressoché a zero.